buongiorno a tutti quanti da simonetta buona mattinata buona giornata buon tutto allora state attraversando con il vostro partner un periodo critico un periodo difficile ma vi volete veramente ancora bene perché questo è importante da sapere ebbene se vi volete ancora bene se vi attraete ancora ma state passando un periodo di crisi o un periodo negativo provate a fare questo lavoro allora cerco di spiegarvelo al meglio è molto semplice vi serve una ciotolina o anche un bicchiere se volete comunque io uso una ciotolina dei fiori di camomilla ne basta una bustina è molto pratico da farsi una bustina di fiori di camomilla dell'acqua e del sale fino prendete un pezzettino di carta come vedete che ho fatto io scrivete il vostro nome in questo caso mettiamo che io sono sonia bianchi e nella metà questa sequenza dei numeri di grabo voi di grabo voi questa sequenza serve a riportare equilibrio in un rapporto dove ci sono problemi però l'importante è assicurarsi che ci sia ancora sentimento ancora attrazione altrimenti non funzionerà quindi fatelo con questi presupposti e scrivete 5917189181419 questa frequenza e sequenza numerica serve a riportare armonia in un rapporto in crisi ma dove c'è ancora del sentimento poi sotto mettete il nome del partner in questo caso io ho scritto un nome di fantasia marco poli per dire si può fare donna per uomo uomo per donna donna con donna e uomo per uomo non c'è nessun problema allora voi preparate questo foglio in questo modo lo appoggiate in fondo alla ciotola oppure anche in fondo al bicchiere non importa piegarlo va semplicemente calcato appoggiato ci mettete la busta di fiori di camomilla potete anche spargere i fiori vedete voi come viene meglio comunque il risultato è questo la camomilla ricordate che è un'erba come tutte le erbe magiche che è in grado di portare amore non è che serve solo a far venire sonno o addormentarci porta prosperità e porta amore quindi mettete la camomilla sopra aggiungete tipo un cucchiaino di sale a occhio sale fino va meglio si scioglie anche prima così e poi prendete dell'acqua pura anche di rubinetto e coprite con dell'acqua mettete insomma un po d'acqua in modo che questo foglietto queste cose siano ricoperte non andate ovviamente fuori dall'orlo ecco otterrete questa ciotola qui fate tutto ovviamente con grande fede con grande serenità e con grande positività e lasciate lavorare le frequenze numeriche lasciate lavorare l'elemento acqua l'elemento sale l'elemento camomilla prendete questa ciotola poi una volta che avete fatto tutto e mettetela in un posto discreto tranquillo dove non sia visibile non sia insomma intercettata vista perché deve rimanere una cosa ovviamente che lavora nel segreto il segreto è una grande energia che va sempre un po mantenuta quando si lavora magicamente quindi può essere un armadio una mensola lo dico mille volte può essere anche dentro un mobile se volete può essere sotto il vostro letto di camera può essere comunque in un posto della casa eccetto ovviamente il bagno lasciate questa ciotola così per 21 giorni per 21 giorni quindi contate sul calettario e poi contate 21 giorni una volta che è trascorso il tempo potete benissimo gettare tutto anche negli scarichi comuni poi se volete avete un giardino un po di terra buttate in natura va bene anche in questo modo la soluzione e miglioramenti possono arrivare benissimo durante il lavoro come possono arrivare alla fine del lavoro dipende un po la situazione che avete però se c'è c'è un presupposto che l'amore ancora vivente vivo l'attrazione ancora viva questo lavoro vi porterà un grande aiuto spero di esservi stata utile è un breve video lo dedico a tutti con grande affetto e potete anche unirlo se volete questo lavoro qui ad un altro lavoro d'amore di addolcimento di riconciliazione di positività che trovate sul canale quindi si può anche abbinare ad un altro lavoro benissimo buon lavoro a tutti i miei migliori auguri ci vediamo nel prossimo video insegnamento un bacio da simonetta